Allora, io è con grande piacere che saluto la nascita della Federazione Italiana Sportiva Motociclismo Paralimpico perché si unisce al grande pianeta dello sport paralimpico un'opportunità in più. È evidente che si spostano sempre più avanti i limiti e le frontiere oggi inesplorate di ciò che un ragazzo o una ragazza disabile possono fare nella dimensione sportiva. L'importante però è che ciò avvenga in assoluta sicurezza ed è per questo che io sarò ben lieto come Comitato Italiano Paralimpico in accordo con la Federazione che oggi nasce ma soprattutto in accordo con la Federazione Motociristica Italiana di aprire un tavolo affinché vengano possibilmente sviscerati tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell'attività. Dopodiché io credo che la Federazione Motociristica Italiana la nuova Federazione Motociristica Paralimpica e il Comitato Italiano Paralimpico sapranno individuare un percorso per regalare un'opportunità in più, sempre in condizioni di sicurezza.